Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara. Quest'anno le nomination degli Oscar ci saranno martedì 8 febbraio, intorno alle 14, ora è italiana, e le seguiremo in diretta facendovele vedere l'estrazione sui canali YouTube e Facebook di Ciac e Azione. Se non siete ancora iscritti ovviamente vi consiglio di iscrivervi per non perdervi le notifiche delle nostre dirette. Saremo gli unici in Italia a far vedere le nomination in diretta commentandole e traducendole per voi in italiano. Nessuna televisione ovviamente in Italia trasmette l'evento, però non volevamo mancare a questo importante appuntamento che ci proietta nelle candidature ufficiali dei premi Oscar che vedremo il 27 marzo nella notte tra domenica e lunedì. Quindi l'appuntamento è martedì 8 febbraio alle ore 14 sul canale YouTube e Facebook di Ciac e Azione. Io sono Valerio Novara e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento insomma a martedì 8 febbraio ore 14 Ciac e Azione.